4 case per vivere Salve 18 novembre, vi aspettiamo dalle 15 alle 18 per l'opendere Avrai la possibilità di visitare la scuola e di scoprire l'offerta formativa 4 nomi per essere La storia è compiuta, il cielo giallo ti aiuta Poglio, i rami, i radici, il corso verde è sempre amici La terra è il nostro regno, il tasso rosso è il nostro segno Quattro case per vivere Salve 18 novembre, vi aspettiamo di essere Salve famiglia, quattro nomi per essere Salve famiglia, quattro case per vivere Salve famiglia, quattro colori per crescere Salve famiglia, quattro figli per prendere Le luni vi consigliate per una visita molto speciale Vi aspettiamo dalle 15 alle 18 Salve famiglia, quattro Salve famiglia, quattro Salve famiglia, quattro Salve famiglia, quattro